Oggi vi propongo le frittelle di verdure, buonissime, una ricetta facile e veloce. Frittelle di verdure croccanti, realizzarle è davvero semplice e bastano pochissimi ingredienti. Senza parmigiano grattugiato nell'impasto, senza pepe e sono super super buone. Però presentiamo il sapore delle verdure. Utilizzo una zucchina, una carota e tre patate piccole. Grattugiamo la zucchina che pesa 250 grammi e la mettiamo all'interno di un colapasta. Poi laviamo benissimo la carota, peliamo la carota e grattugiamo la carota che pesa 190 grammi. Una volta grattugiata la carota è il momento delle patate. Laviamo le nostre patate, peliamo le patate e le grattugiamo 300 grammi di patate. Le mettiamo tutte all'interno di un colapasta e versiamo due cucchiaini di sale. Sono cucchiaini di sale comunque rasi, non sono pieni pieni. Amalgamiamo benissimo il sale con le verdure e lasciamo riposare il nostro composto così per circa 30 minuti. Questo ci aiuterà a far rilasciare un po' di acqua di vegetazione. Prendiamo la ciotola e versiamo due uova. Utilizzo le uova L, sono le uova grandi. Lavoriamo le uova con la forchetta. Una volta che abbiamo lavorato benissimo il tutto, mettiamo la ciotola da parte, prendiamo un piatto e strizziamo benissimo le nostre verdure. Quindi andiamo a strizzare tutte le verdure. A me piacciono tantissimo queste frittelle di verdure perché sono senza parmigiano, senza pepe. Quindi andiamo a sentire proprio tutto il gusto delle verdure. Una volta che abbiamo strizzato benissimo tutte le verdure, le mettiamo all'interno della ciotola con l'uovo. Lavoriamo il tutto con la forchetta e poi andiamo a versare 90 grammi di farina 00 di crano tenero. Se volete potete utilizzare un altro tipo di farina. Io ho utilizzato la farina 00. Una volta che abbiamo versato anche la farina, le nostre frittelle sono pronte. Possiamo passare i fornelli. Mettiamo un po' d'olio extravergine d'oliva oppure se volete l'olio di semi di girasole. Quando l'olio risulta ben caldo possiamo cuocere le nostre frittelle. Mi raccomando, la fiamma non deve essere alta se non si bruciano e neanche troppo bassa perché se no risultano onduose. La fiamma deve essere media, media o bassa. Niente, facciamo friggere le nostre frittelle da tutti e due lati. Come vedete qui ho realizzato proprio delle maxi frittelle, sono grandi, ma potete realizzare anche delle frittelle piccole. Una volta che le avete cotte da tutti e due lati, le mettete in un piatto con carta assorbente e sono pronte per essere servite. Qui, come vi faccio vedere, ho realizzato anche delle frittelle più piccole. Ragazze, trovate queste frittelle di verdure croccanti buonissime. Se volete proprio sentire il sapore delle verdure, provate queste frittelle senza parmigiano e senza spezie. Facile, veloce, ma soprattutto buonissime. Vi aspetto su YouTube e sul mio canale. Ciao, alla prossima!